Una forte ondata di maltempo potrebbe investire nelle prossime ore la Sardegna. Infatti la protezione civile ha emesso un'allerta meteo con codice rosso specificando che fenomeni molto pericolosi arriveranno nelle prossime ore con rischio idrogeologico molto elevato. I sindaci sardi hanno attuato i propri piani di protezione civile e molte scuole rimarranno chiuse fino a quando il pericolo non sarà cessato. Tra l'altro è stata anche chiusa l'Università di Cagliari. È costante da parte della protezione civile nazionale che ha emerso un'allerta meteo ma questa situazione potrebbe pericarsi anche in altre regioni d'Italia.